SOMETHING WANT TO USE YOU 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 E' stata subito guerra. Quelli avevano cominciato a sparare senza nemmeno tentare un accordo, una soluzione pacifica. E adesso, pianeta per pianeta, bisognava combattere coi denti e con le unghie. Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame, freddo e il giorno era livido e spazzato da un vento violento che gli faceva male agli occhi. Ma i nemici tentavano di infiltrarsi e ogni avamposto era vitale. Stava allerta, il fucile pronto. Lontano 50.000 anni luce dalla patria, a combattere su un mondo straniero e a chiedersi se ce l'avrebbe mai fatta a riportare a casa la pelle. E allora vide uno di loro strisciare verso di lui. Prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano. Poi non si mosse più. Il verso, la vista del cadavere, lo fecero rabbrividire. Molti, col passare del tempo, se erano abituati, non ci facevano più caso. Ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, quella pelle di un bianco nauseante e senza squame. Ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, quella pelle di un bianco.